Due mesi e mezzo dopo l'avvio termina oggi 31 maggio la sperimentazione della Tarip nella città di Salerno. 850 famiglie sono state coinvolte nell'esperimento che consentirà al Comune di Salerno e a Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta differenziata, di calcolare l'algoritmo utile a fare la differenza anche sul pagamento della Tari. La Tarip è la tariffa puntuale per il pagamento della tassa sui rifiuti. Ai due parametri tradizionali, quello sulla grandezza dell'appartamento e quello relativo al numero dei componenti della famiglia che ci vivono, con la Tarip si aggiungerà anche la quantità di rifiuto non differenziabile prodotto. Nei due mesi e mezzo di sperimentazione i cittadini che volontariamente hanno aderito all'iniziativa hanno conferito i rifiuti in speciali mastelli rossi con appositi sacchi che sono stati pesati ogni sera dai facilitatori prima di essere poi raccolti come tutti gli altri rifiuti. Salerno Pulita ha anche reso noto che il mastello rosso utilizzato per la sperimentazione non dovrà essere restituito e resterà nelle mani dei cittadini volontari che hanno partecipato alla sperimentazione Tarip. Salerno ed il modello utilizzato per provare a calcolare come passare dalla Tari alla Tarip saranno anche oggetto di studio attraverso un convegno in programma il prossimo 14 giugno a Napoli nel corso del quale saranno esaminati tutti i casi di città del sud che si stanno mettendo alla prova con la necessità prevista per legge che si passi ad applicare la tariffa puntuale per il pagamento della tassa sui rifiuti.